...della Lazio lo batte Mijailovic... ...goll! ...e Lopez! Il cross di Lopez... ...Goradi! ...Goradi! ...Gretto a Grella, Fiore, scatena subito l'azione d'attacco... ...è partito Simeone! Simeone, Simeone, Simeone! Rete! Simeone! Stasera il piede ha battuto punizioni e calci d'angolo molto bene... ...per cui secondo me potrebbe pure provarci... ...poi secondo me sono 3 a 1 per cui... ...batte Mijailovic... ...Gastano! ...Gastro Mann ha segnato di testa...